Musica Mi sa che stavolta ho esagerato Sono stata in un negozio fantastico e adesso ve ne parlo Sappiamo bene che tutte le mamme vivono periodi di stress in un certo senso Che comunque ognuno reagisce al parto in modo differente E così una mia amica ondorno mi ha regalato questo Che è il tè Ed è un tè del buon umore Contiene guapassa, vaniglia e papaya Non l'ho mai visto in giro E non è nemmeno di quelle bustine Sapete che le fate un po' tutto tu E quindi prendete e le bevete È un tè sfuso L'odore è strabiliante All'interno contiene guapassa, vaniglia, papaya Ma in pezzi Non parliamo di polvere ultra fine Anzi parliamo di una bella polverina E dei pezzi grossi Che sono buonissimi E fanno benissimo Allora Io questo qui l'ho preso L'ho preso e scocciato Mi l'hanno regalato E praticamente Mi sono fatta spiegare un po' Da questa mia amica Alcune cose E così oggi Mi sono fiondata in questo negozio Allora il negozio si trova al Vomero Precisamente a Via Orsi 56 Vi lascio tutto quanto scritto nell'info box E qui Allora 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.